un saluto da dottor palmas ti faccio vedere in questo video come sono fatti concretamente gli impianti juxta ossei o sotoperiostali che vengono avvitati sopra all'osso fai attenzione perché non tutti gli impianti che sono in circolazione uno hanno le certificazioni per essere utilizzati nel corpo umano fai molta attenzione a questo quello che vedi uno degli unici tra l'altro fatto in italia ad avere le certificazioni in regola ed è tra l'altro fai attenzione non un pezzo di titanio fatto dal maniscalco ma da fabbriche che hanno i requisiti per fare questi tipi di impianti non è la tecnica press fit queste impianti fatti su misura che non vengono poi avvitati sull'osso ma quelle che vedi qua nel dettaglio sono proprio i fori dove vengono avvitate poi le viti di ancoraggio da osteosintesi maxilofaciali qua vedi il dettaglio dei multi unit abatment che sono i punti dove verrà poi avvitata l'arcata fai attenzione a chi ti propone questi tipi di impianti dove poi le protesi non vengono avvitate ma vengono incollate devono esserci questi fori di passaggio devono avere le certificazioni e soprattutto devono essere degli impianti dentali che vengono fissati sulla base macellare o della mandibola se si tratta di impianti mandibolari come vedi c'è la serigrafia sopra all'impianto che ti fa vedere che sono degli impianti fatti in italia questi sono degli impianti che vengono disegnati col computer riprodotto roboticamente con delle stampanti di metallo e vengono successivamente decontaminati trattate le superfici del titanio e dopodiché seguono l'iter certificatorio che è fondamentale avere per poter installare questi impianti nel corpo umano quello che vedi qua è l'impianto inserito in radiografia spesso vengono utilizzati questi impianti dalla nostra equip in unione in congiunzione con degli impianti pterigoidei questi ci permettono nelle zone posteriori di andare a dare sostegno all'impianto stesso essendo ancorato nella zona posteriore poi dove si scaricano le forze di carico maggiore fa attenzione quindi quando ti orienti al posizionamento di questi impianti che siano impianti fatti in italia su misura certificati che siano rintracciabili dove se ne hanno stati prodotti e soprattutto che vengono avvitati sull'osso e che sopra vi propongano poi di fare l'arcata definitiva avvitata e non incollata e soprattutto che vi propongano vi parlino già dell'arcata definitiva molti furbetti invece vi proporranno di utilizzare gli stessi denti che sono stati usati per l'intervento poi ribasati incollati sopra la protesi fai molta attenzione perché poi si accumula cibo vicino ai multi unit di questi impianti e andrai a perdere la gengiva quindi l'impianto si esporrà e avrai buttato una marea di soldi perché l'impianto dovrà poi essere tolto l'impianto si esporrà e avrai buttato una marea di soldi perché l'impianto si esporrà e avrai buttato una marea di soldi